Musica Video appello del Vescovo Monsignore Franco Montenegro Da domani i rintocchi di campane saranno 10 ogni giorno dalle 9.15 alle 21.15 Sotto sciocca la formazione di calcio della San Cataldese dopo l'arresto del loro allenatore Lirio Torregrossa Riparato e riaperto dopo due anni il palasport di Favara in Contrada Pioppo Conferenza stampa del sindaco Rosario Mancanella Ben trovati al TG 98 in apertura del nostro telegiornale di oggi Il video appello del Vescovo di Agrigento Monsignore Francesco Montenegro sulla cattedrale Da domani si apre l'anno della fede Montenegro spiega il perché dei rintocchi di campane che saranno 10 ogni giorno Dalle 9.15 alle 21.15 Sentendoli dobbiamo ricordare che abbiamo una mamma in agonia E questo non può lasciarci indifferenti Ma vediamo il video messaggio di Monsignore Francesco Montenegro Siamo alla vigilia dell'apertura dell'anno della fede È un anno voluto dal Papa perché i cristiani, i credenti, prendono coscienza della loro fede Facciano una verifica e nello stesso tempo ne sentono la gioia In questo cammino un riferimento importante è la cattedrale, la chiesa madre Però per noi agrigentini questo punto di riferimento viene a mancare La nostra cattedrale è chiusa e la nostra cattedrale è malata E noi forse ci siamo un po' dimenticati di questa cattedrale Ed è per questo che in questo anno sentirete dei rintocchi La mattina e la sera sono i rintocchi della campana Di una campana, appunto, di una chiesa madre Che ricorda il nostro impegno di cristiani E ci ricorda che la voce di Dio deve entrare nei nostri cuori E deve in qualche modo animare la nostra vita Questi rintocchi partiranno da una torre La torre campanaria La torre campanaria per la città ha anche un significato Anche per chi non ha credente Questa torre è ritta ed sta qua da tanto tempo E ricorda tutta una storia passata Bella e straordinaria Ma ancora una torre che riesce a mandare i suoi rintocchi Allora ci dice che c'è un futuro Che possiamo andare avanti Anzi, che dobbiamo andare avanti E poi questi battiti che sentiremo Sono come il battito di un cuore Di un cuore però che è malato E allora risentendoli dobbiamo ricordare Che abbiamo una mamma Che in qualche modo possiamo dire Sembra che sia in agonia E questo non può lasciarci indifferenti Ecco il significato del perché di questi rintocchi Dato al mattino e alla sera Perché ognuno, credente o agrigentino che sia Si ricordi che c'è questo pezzo di storia E questo pezzo di città Che non può essere dimenticato C'è una cattedrale che è malato In un centro storico che è pure malato E allora se ognuno di noi Prende coscienza e ci sentiamo uniti A volere la nostra cattedrale aperta Credo è ridare un cuore E ridare a questa città Il suo significato grande Perché ricollega la storia passata Con la storia che deve venire A voi affido questa attenzione E a tutti do il mio saluto E a tutti do il mio saluto E a tutti do il mio saluto Cambiamo argomento Tre persone nel registro degli indagati Per la morte del pensionato 64enne Antonio Calogero Tabbone Deceduto nel rogo divampato Nella camera della casa di riposo Padre Ingrau Nella quale era ospitato a Serra di Falco I tre appartengono alla struttura comunale Gestita da una cooperativa Ma prima di un'eventuale formulazione Del capo di imputazione Probabilmente si vuole attendere L'esito di questa prima fase Delle indagini In un primo momento Si era ipotizzato che le fiamme Potessero essere state innescate Da una sigaretta Che Caligio Indicato come un accanito fumatore Avrebbe lasciato accesa Ma questa ipotesi è stata scartata A San Cataldo L'arresto di Lirio Torregrossa Coinvolto nel blizzi della Mobile È stato un fulmine a ciel sereno La San Cataldese Squadra militante in eccellenza Si ritrova di punta in bianco Senza allenatore La dirigenza ha già affidato La guida tecnica all'allenatore in seconda Per noi ha dichiarato Il presidente Giuseppe Di Liberto È stato un colpo Abbiamo subito incontrato la squadra Per tranquillizzare soprattutto i giocatori La squadra è rimasta sotto shock per la notizia Siamo dispiaciuti Prosegue Di Liberto Ma i programmi non cambiano Ed è pure confermata l'amichevole Al Valentino Mazzola con il Catania La gara è in programma oggi Torregrossa Tecnico e gestore di sale giochi Da giocatore a militato Anche nel Torino E nel glorioso Licata di Zevan Il coordinatore nazionale Delle cantiere popolare Savero Romano Ha incaricato il suo avvocato Raffaele Bonsignore Di procedere con la querela Per diffamazione Nei confronti di Giafranco Miciche E Rosario Crocetta Miciche in un video Ha detto di avere incontrato Romano per parlare Dell'ipotesi di realizzare Gli ingeneritori Crocetta invece parlato Di un accordo Per la realizzazione Di queste opere Al quale Romano Avrebbe aderito Replica Miciche Non ho mai incontrato Romano Per parlare di termovalorizzatori E non capisco Perché mi voglia Querelare Il ministro del lavoro Elsa Fornero Ha raggiunto un'intesa Con la regione Sicilia Per l'assegnazione Di 50 milioni di euro Da destinare Agli ammortizzatori sociali Inderoga Nel territorio regionale Per l'anno 2012 In sostanza I fondi serviranno Per far ripartire I pagamenti Della cassa integrazione Anche se le somme Concesse dal ministro Del lavoro Elsa Fornero Sono meno della metà Dei 120 milioni di euro Che Palazzo d'Orleans Invocava da settimane E ora si apre Anche la trattativa Sulla GESIP Che attingerà Agli stessi fondi Non ne bastano I 1600 dirigenti A libro paga Della regione Il governo Di Raffaele Lombardo A poche settimane Dal voto Assume un esterno Come direttore Del consorzio Autostrade siciliane Applicandogli Il contratto Di dirigente generale Costo Tra i 700 mila E un milione Di euro Per 5 anni Se la regione Avesse individuato Un dirigente interno Per il posto Di direttore Del casse La nomina Sarebbe stata A costo zero Pubblico E privato Una conciliazione Che se saputa fare Non potrà far Altro che Portare benefici Risistemato Il tetto Del palazzetto Dello sport Di contrada Pioppo A Favara Grazie al contributo Della cooperativa Sestante Dei fratelli Bellavia Riaperta a pubblico Dopo due anni La struttura E questa mattina Conferenza stampa Del sindaco Di Favara Rosario Mancanella Vediamo Si riapre Il palazzo sport Antonio Giglia Un altro importante Passo Dell'amministrazione Comunale Di Favara Abbiamo detto Durante la campagna Elettorale Che volevamo fare Di Favara Una città normale Dove tutto Quello che c'è Deve funzionare Nel migliore Dei modi Possibili Questo è Un'ulteriore Etapa Che abbiamo raggiunto Questa mattina Avendo Riaperto Dopo anni In cui è stato Chiuso Il palazzetto Dello sport Ma dove da anni Non si fanno Nemmeno Iniziative Di nessun tipo Né sportive Né eventualmente Di eventi Musicali O di altra natura E quindi abbiamo Ridato oggi Alla città di Favara Questo spazio Bellissimo Come potete vedere Davvero splendido Attraverso Anche una collaborazione Tra pubblico E privato Dove Queste sinergie Messe assieme Hanno già Nel giro Di pochissimi giorni Dato alla luce Questo splendido Palazzetto Dello sport Che ripeto È stato Chiuso Per incuria A causa Di infiltrazione Di piogge Che hanno Tra l'altro In parte Rovenato Anche il parquet Su cui interverremo Successivamente Nei prossimi giorni È un fatto Importante Per la mia Amministrazione Che dà luce A questa A questa Struttura Spero adesso Che ci siano Una serie Di eventi Il primo In programma Lo annuncio Già Alla vostra Televisione Da questi Microfoni È quello Che l'otto Di dicembre Apriremo Con uno Spettacolo Del complesso Musicale Dei Pù Che saranno Qui A rallegrare Un po' Tutti i cittadini Soprattutto Coloro I quali Amano La musica Degli anni Sessanta Continueremo Avanti così Perché non solo Il palazzetto Dello sport Deve essere Riaperto Cosa ripeto Che stiamo facendo Stamattina Ma anche la piscina Comunale Deve essere Una piscina Comunale Che deve andare In attivo Oggi noi Spendiamo 300.000 euro L'anno Per mantenere Questa Piscina Comunale Aperta Tuttavia Incazziamo Appena 35.000 euro Quindi è una Spesa Con questa Situazione Finanziaria Che abbiamo Tutti i comuni Che rende Difficile Mantenere Aperta Questa struttura Se non c'è Anche qui L'intervento Pubblico Privato E quindi daremo Faremo una gara Adesso stiamo studiando Qual è il metodo Migliore per farlo Ma vogliamo Che chi gestisce Il palazzetto Dello sport Possa gestire Anche la piscina Comunale E tutti gli spazi Pertinenti In maniera tale Che ognuno Può soffrire Sia dalla piscina Il palazzetto Del palazzetto Dello sport A secondo Dei propri Interesse E delle scelte Voglio dire Che si fanno In questa direzione La riapertura Di un palazzetto È sicuramente Un momento Importante Per lo sport Sì È un momento Importante E di felicità Come possiamo Vedere il palazzetto Sport Giglia di Favara È una struttura Meravigliosa Purtroppo A causa Delle intemperie Si era rovinata La copertura Adesso Con Diciamo L'aiuto L'ausilio Del sestante Nota Per L'organizzazione Di Numerosissimi Eventi Nella Valle Dei Templi Oggi Riapriamo Questa Meravigliosa Struttura C'è Stata Diciamo Una Un protocollo Di intesa Con La cooperativa Il sestante Organizzeranno Già Delle manifestazioni Subito Nei primi Giorni Di dicembre Verranno IPU Saranno ospitati Proprio In questo Meraviglioso Palazzetto Per noi Oggi È una Giornata Di festa Una giornata Importante Questo È un sito Sportivo Importantissimo Abbiamo Una piscina Meravigliosa Questo Palazzetto Dello Sport Che ha Gli utenti Non solo Raccoglie L'utenza Non solo Favarese Ma anche Dei Paesi Vicini Agrigentini Racalmutesi Grottesi Tantissimi Nostri Concittadini Che utilizzano Giornalmente La piscina Comunale Potranno Da oggi Utilizzare Anche Questa Meravigliosa Struttura I carabinieri Di Naro Durante la serata Hanno restato In flaganza Di reato Agostino Bianchi 34 anni Palermitano Ma residente A Camastra Già conosciuto Alle forze Dell'ordine Per aver Violato L'obbligo Di dimora Nei comuni Di Naro E Camastra Cui l'interessato È sottoposto I militari Dell'arma Hanno bloccato L'uomo In viale Europa Di Naro Ove lo stesso Poco prima Per futili motivi Aveva colpito Con pugni E calci Una persona Del luogo Scagliandosi Successivamente Anche contro Gli stessi Carabinieri Intervenuti Per calmare Gli anni E i carabinieri Nella tarda mattinata Hanno eseguito Un'ordinanza Emessa dal giudice Per le indagini Preliminari Del tribunale Di Sciacca Con il provvedimento È stato disposto L'arresto Di Mariano Salvatore Colletti 58 anni Di Caltabellotta Pastore Già conosciuto Alle forze Dell'ordine Reo Di avere Violato Le prescrizioni Connesse alla precedente Misura di custodia Cautelare Degli arresti Domiciliari Colletti Dopo le preliminari Formalità di rito In caserma È stato quindi Accompagnato Al carcere Di Sciacca E adesso Ci fermiamo Per la prima pausa Pubblicitaria Subito dopo Saranno 16 E non più 15 Le liste Del collegio Di Agrigento Per il rinnovo Dell'assemblea Regionale Siciliana È stato È stato infatti Riammessa La lista Del popolo Dei Forconi Il tribunale Amministrativo Della Sicilia Ha infatti Accolto il ricorso Dei legali Del candidato Alla presidenza Della regione Mariano Ferro Che hanno chiesto Di riammettere La lista Esclusa Nel collegio De Agrigento Perché una Delle candidate Linda Cottone Non aveva I requisiti Per essere Inserita Essendo stata Condannata Ad una pena Inferiore Ai due anni Di reclusione In corsa Quindi Tranne la Cottone Tornano Maria Teresa Fazio Giuseppe Marinelli L'artigiano Campobellese Carmelo Camilleri Detto Angelo Il favarese Giacomo La Russa E il canicattinese Giovanni Costanza E da oggi Inizia Il tour Elettorale Di Beppe Grillo Del movimento 5 Stelle In favore Del candidato Presidente Giancarlo Cancellieri Dalla traversata Dello stretto Di oggi Alla corsa A Gela Le tappe Come spunto Per parlare Di ambiente In provincia Di Agrigento La tappe Prevista Per giorno 18 Prima Sarà a Mussomeli Nel Nisseno Con la passeggiata In via Palermo E piazza Roma E alle ore 21 Ad Agrigento In piazza Marconi Detta piazza stazione Il giorno dopo Il 19 Sarà a Canicattì Con una passeggiata In viale Regina Margherita Infine alle ore 21 Spostamento a Sciacca In piazza Scandaliato La chiusura A Caltanissetta Con lui Si schiera La cantante Mina E domenica Prossima 14 ottobre Alle ore 18.30 Presso il bar Belvedere a Grotte Fra tappa Il candidato Di Grande Sud Alle elezioni Regionale Michele L'Avvocato Luigi Restivo Ha notificato Ieri Il ricorso Presso Il Tribunale Amministrativo Regionale Di Palermo Promosso Dai Comuni Di Alessandra Della Rocca Bivona Burgio Camastra Cammarata Cianciana Iopro Giancazio Menfi Montevago Palma Di Montechiaro Sambuca Di Sicilia San Biagio Platani Santa Elisabetta Santa Margherita Belice E Santo Stefano Di Quispina Ricorso Con il quale 15 comuni Della provincia Rifiuti E' stata nominata Commissaria Adacta Al fine di procedere Alla consegna Di risorse Redi Ed impianti Idrici Alla Girgenti Acqua S.P.A. Già Nelle scorse Settimane Tutti i consigli Comunali Degli enti Interessati Hanno deliberato La contrarietà Delle comunità Amministrate A consegnare I propri impianti Al gestore privato E hanno chiesto Al Tresia Al consorzio D'ambito Agrigento Di avviare Le procedure Per la rescissione Della convenzione Di gestione Con la Girgenti Acqua Tre colpi Di pistola Scopo Intimidatorio Sono stati sparati Ieri sera A Gela Contro la Saracinesca Del più grande Panificio Di Gaetano Marinetti In via Tartini A poche decine Di metri Dalla caserma Dei carabinieri Marinetti Ex presidente Dei panificatori Del confartigianato Di Gela Potrebbe Essere Nel mirino Nell'ambito Della guerra Sul prezzo Del pane Alcuni Fornai Abbassarono Il costo Da 2,5 euro Al chilogrammo A 1 euro Marinetti Voleva Il prezzo Pieno Movimentata A riunione Di condominio Lunedì sera In una palazzina Di contrada Giuccafa A Porto Empedocle Durante la discussione Sulla suddivisione Delle spese Provedimenti Della autorità Giudiziaria Un progetto Che mira Coinvolgere I produttori Vitivinicoli Dell'isola Nel recupero E nella salvaguardia Dei beni culturali Siciliani L'iniziativa Dell'associazione Amo l'arte Amo l'Italia Onlus Promossa in collaborazione Con l'assessorato Regionale Dei beni culturali E' stata presentata Al reale albergo Delle povere In corso Catafine Vediamo l'intervista Allora io L'associazione Amo l'arte Amo l'Italia Di cui io sono il presidente E' un paio di anni fa Partendo da Quanto era successo A Pompei Tutti ben noto Il degrado In cui si trovavano Gli scavi E' bastato Un temporale E' bastato Una situazione climatica Sfavorevole Che tutto è andato E' andato A scatafascia Partendo appunto Da questo fatto E considerando Che in Italia Per la nota Vicente Le crisi economiche Eccetera Governi di destra E di sinistra Hanno tagliato Fondi per beni culturali Abbiamo avuto l'idea Io con tutti i soci Di abbinare E investire quindi Nel privato Abbinando L'arte Alle eccellenze Fra le eccellenze italiane Una di queste La più importante Riconosciuta In tutto il mondo E' il vino Tra l'altro I produttori di vino Sono sempre stati sensibili Ai problemi dell'arte E allora abbiamo detto Perché non Coinvolgerli direttamente Attraverso un semplice gesto Che è quello di bere Un calice di vino Una goccia Di questo calice Va a favore Dei beni culturali Per la salvaguardia E il mantenimento In modo che ognuno Possa dire Anch'io partecipo Anch'io restauro l'Italia Una taglia sui piromani Un premio da 3.000 euro A chi riuscirà a fornire Alla dedalo ambiente Prove certe ed inequivocabili Sulla identità degli autori Dei roghi di Cassonetti Nella città di Licata Una idea del commissario Della società d'ambito Ag3 di Licata Rosario Miceli Abbiamo valutato Dice Miceli L'opportunità di offrire Un compenso Stablito in 3.000 euro A chi attraverso Riprese o fotografie E altre prove Possa far individuare E arrestare i piromani Una iniziativa forte Che vuole comunque Puntare l'attenzione Sul problema Che si registra Ogni notte a Licata L'allarme ingenti Visto che negli ultimi Tre giorni Altri 20 cassoni Dei rifiuti Sono stati dati Alle fiamme Da ignoti I poliziotti Monitorano La costa Nel tentativo Di impedire Novi sbarchi Di clandestini Ormai da qualche mese Palma di Montechiaro Ha preso il posto Di Licata Nel senso Che è diventata La meta preferita Dei trafficanti Di uomini Che a caro prezzo Sbarcano migranti Sulla costa Le spiagge Di Ciotta Di Marina Di Palma E di Capreria Sono diventate Punto di riferimento Per gli approdi Degli ex comunitari L'ultimo sbarco Si è verificato Venerdì scorso Quando in centro La polizia Ha sorpreso 19 clandestini Che erano appena Arrivati in paese Dopo essere stati Lasciati Sulla spiaggia E cercavano Un autobus Per raggiungere Palermo Gli agenti Del commissariato Del villaggio Giordano Che operano Guidati dal vicequestore Angelo Cavaleri Stanno cercando Di limitare Un fenomeno Certamente Raro Weekend ecosostenibile Alla riscoperta Dell'area archeologica Punico-Romana Della riserva orientata Di Isola delle Femmine È l'iniziativa Patrocinata Dall'assessorato regionale Al territorio e ambiente Dalla soprintendenza Del mare e di terra Che si è svolta Con escursioni Terra-acque Un futuro ecosostenibile Per il mediterraneo Vediamo l'intervista Sì, diciamo che Oltre essere una tutela È una manifestazione Che la collettività isolana Ha organizzato Nella qualità Del comitato Isolotto libero Al fine di Valorizzare Il sito archeologico Che è esistente Nell'isolotto Di Isola delle Femmine Il sottoscritto Presidente del comitato Ringrazia Tutte le autorità Di polizia Capitane di Porto Soprintendente I beni culturali L'organizzatore Dottor Antonio Falcone Tutti i presenti In loco Tutti i pescatori Che aderiscono A questa manifestazione Di fatto Nell'isola È esistente Un sito archeologico Ebbene Questa è la giornata Appunto Per far vivere Questa giornata Bella E sprendente A tutti i partecipanti E appurare Quanto C'è nell'isola Al fine Successivo Di poter garantire E alla collettività Di poter fruire Dell'isola Per il bene Culturale E anche Il bene Dell'umanità Che cosa Consisterà? C'erano le visite Presso L'isolotto? Per il momento La visitiamo Ci rendiamo conto Di quello Che è esistente E successivamente Con Gli enti locali Si deciderà Per un'ulteriore Valorizzazione E quindi Un'ulteriore Gestione Per quanto riguarda Però Sottolineando La fruibilità Dell'isola Come mai Il suo involgimento Dei bambini? I bambini Sono Lo specchio Della verità E Lo specchio Anche Dell'intelligenza Fra l'altro Io quando ero piccolo Ero bambino Mi recavo nell'isola Era libera Era un paradiso terrestre Insieme con i miei Quei tani pescatori Che sono figlio di pescatore Quei tani isolani Andavamo nell'isola Andavamo a giocare Quindi Era Un luogo ludico Per il divertimento Dei piccoli Seconda ed ultima Pausa pubblicitaria Tra poco Per lo sport Il basket Le nostre giornate Ci rendono impegnati In qualsiasi momento A volte Il fatto di essere atleti Rischia di distaccarci Dalla realtà E proprio Per questo Chiediamo aiuto A tutti i nostri tifosi Simpatizzanti E amici Per Aiutarci A non perdere Quello sentimento Di realtà Dove purtroppo Esiste Anche la povertà Anche la povertà A parlare direttamente Da Latina Dove stasera Si giocherà La terza giornata Di campionato DNA E Vincenzo Di Viccaro Giocatore Della fortituto Moncada Grigento Che insieme ai suoi compagni Parteciperà Sabato Alla raccolta Di alimenti E prodotti Per bambini Si tratta Di una colletta Dal titolo Un canestro Per la solidarietà Organizzata Dalla società Del presidente Salvatore Moncada Che ha come scopo Quello di sostenere I volontari Di strada Di Agrigento Raccogliendo Quanti più Pannolini Omogenizzati E buste di latte Da destinare Alle famiglie Da loro assistite Saremo noi In prima persona A raccogliere La spesa Che la gente Vorrà donare Continua Di Viccaro Ma abbiamo Bisogno Davvero L'aiuto Dei nostri Sostenitori Di tutti Quanti Riconoscono Il sentimento Di solidarietà Al di là Del divertimento E della gioia Per una partita La raccolta Avverrà Sabato 13 ottobre Dalle 18 Alle 20 In Piazza Cavour Ad Agrigento E' proprio Tutto Per questa edizione Del nostro Telegiornale Vi ricordo Il nostro Sito internet www.trs98.it Grazie Per averci seguito E io vi lascio Con le previsioni Meteo Previsioni per oggi Al mattino A nord Solleggiato Ma con nubi sparse A sud Solleggiato Con poche nubi Nel pomeriggio A nord Bel tempo Con cieli sereni A sud Bel tempo Ma con venti Sostenuti Previsioni per domani Al mattino A nord Bel tempo Con cieli sereni A sud Bel tempo Con cieli sereni Nel pomeriggio A nord Poche nubi Sfilacciate Con schiarite Prevalenti A sud Poche nubi Sfilacciate Con schiarite Prevalenti Sfilacciate 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 Sfilacciate